E' tempo di vacanze, è il momento in cui i comuni, dai più piccoli ai più grandi, organizzano una serie di appuntamenti per intrattenere residenti e turisti. E così anche ad Acri, dove l'amministrazione da poco eletta ha organizzato la rassegna Restate ad Acri, oltre 40 gli appuntamenti previsti, personaggi noti e meno noti, spettacoli che accontentino tutti i target e la valorizzazione dell'anfiteatro, questi i punti cardine del programma, realizzato praticamente a costo zero. Noi abbiamo il 18 di agosto i nomadi in concerto all'anfiteatro comunale, poi abbiamo altri artisti di livello, quali Marina Reia a San Giacomo d'Acri l'8 di agosto, Franco Simone il 12 di agosto a Chimento, e poi abbiamo il nostro Fabio Curto il 13 di agosto a Montagnola. Questi per quanto riguarda i cantanti, perché il nostro cartellone consta anche di altre attività che fanno spettacoli, fanno cultura, quale ad esempio il cinema, quale ad esempio il teatro, e nonché abbiamo anche due serate, anzi tre in realtà, la notte bianca, la notte rosa e la mezzanotte dedicata ai bambini. Sono tre serate che abbiamo voluto fortemente, perché sono delle serate in cui c'è una forte integrazione e oramai sono storiche, soprattutto la notte bianca in questo territorio, per cui abbiamo voluto riproporla. La novità appunto è la notte rosa e la mezzanotte dei bambini, perché ci siamo reso conto che erano delle tematiche un pochettino messe ai margini e ci sembrava giusto dare il giusto risalto. Quindi tutte le sere noi siamo riusciti a creare un evento, grazie all'associazione e ai comitati, e lo voglio ringraziare pubblicamente, e questo era il primo obiettivo. Il secondo obiettivo era quello di far sì che l'anfiteatro comunale potesse ripartire, perché erano un po' di anni che insomma non lo faceva, e siccome è un gioiello questo qui, per il nostro territorio e per la Calabria tutta, per noi è stato importantissimo farlo appunto ripartire. E con i concerti dei nomadi credo che possa essere un ottimo trambolino di lancio.